buonasera a tutti iniziamo con le domande dalla tribuna stampa buonasera mister claudio zuliani juventus tv ciao vittoria importante la juventus è prima in classifica con otto punti sulla seconda 9 sulla terza questa sera era molto difficile c'erano 27 gradi 70 per cento di umidità faceva caldo era dura da giocare qual è l'indicazione migliore che si porta a casa da questa serata ma abbiamo fatto una partita con un buon livello di maturità a vederla dall'esterno perché siamo sempre stati in controllo della partita fino all'erroraccio con cui abbiamo un cesso di rigore avevamo un cesso solo una conclusione periolosa da fuori aria quindi sembrava una partita in totale controllo e lo era c'era aria a fine partita ad averla vinta solamente 2 a 1 perché penso il campio abbia espresso un risultato nettamente nettamente diverso poi chiaramente va in sofferenza finale anche se sta più una sofferenza di partecipazione emotiva e non una sofferenza materiale perché mi sembra non abbiamo concesso poi praticamente niente una punizione da 30 metri ma niente di fattigolare ciao Emanuele Gamba Repubblica vorrei farti due domande in qualche modo però forse collegate la prima è la ragione per cui inizialmente avevi scelto Iguain e non Dibala lo credo che sia una ragione anche tattica fisica fisica in che senso? nel senso che ieri Paolo si è bloccato alla schiena durante l'allenamento stamani stava meglio però abbiamo deciso di fargli fare solamente uno spezzone di partita perché venia da questo episodio e avevamo paura che si potesse ribloccare poi durante il riscaldamento di oggi si è bloccato alla schiena Iguain e siamo ricorsi a quello che in quel momento stava meglio perché Paolo aveva fatto le cure ieri sera stamani tutta la mattina quindi era in condizioni un po' migliori di Iguain che si era bloccato proprio i minuti prima quindi sono state due scelte di carattere fisico poi l'altra domanda più che altro a livello di curiosità per la prima volta hai giocato qualche minuto con la difesa a tre o a cinque e hai fatto due cambi che non sono nelle tue corde cioè due difensori Danilo e Rugani a posto di due attaccanti volevo sapere semplicemente se uno scudetto vale anche queste cose qua no, no, erano tutte scelte relative a questa partita abbiamo alzato il quadrado non abbiamo in quel momento della partita cambiato assolutamente nulla dal punto di vista tattio perché Dagi aveva fatto 60 minuti e quando si parla di Douglas Costa io un po' di timore mi posso andare incontro a un infortunio visto l'esperienza con lui ce l'ho sempre così come era quasi obbligatorio il cambio di Ramsey che veniva da un periodo in cui aveva fatto solamente spezzoni piuttosto brevi di partita e quindi non ci poteva garantire 90 minuti ma era tutto lì poi nel finale ho visto Bonucci e Onigrampio ho pensato di passare a 5 anche nell'onsapevolezza che loro molto probabilmente essendo una squadra fisica ci potevano mettere palla dentro l'area di rigore anche da lontanissima Marco Venditti, signora mia calciognose buonasera Minister Senta una domanda non so se già gliel'hanno fatta in passato ma questa tappa di avvicinamento verso questa conquista importante che poi tutto sommato è quella più prestigiosa che lei ha conquistato sul territorio italiano cioè speriamo insomma e crociamo le dita ecco come la pone se la rende così è affascinato da questa situazione è nervoso come la sta vivendo? manca poco, non molto grazie anche quando fai palo manca poco a far gol e quindi la sto vivendo che giovedì dobbiamo giocare a Udine che nell'ultima quattro partite dobbiamo fare quattro punti e stop senza andare oltre a queste considerazioni fare punti in questo momento della stagione è sempre una banalità invece è una fatica una sofferenza enorme per tutti quindi concentriamoci sui risultati che ancora dobbiamo fare senza pensare a niente oltre a questo ciao mister Guido Vaciago tutto sport ciao è di oggi la notizia che France Football non assegnerà il pallone d'oro in sostanza non ritenendo attendibile questa stagione volevo conoscere la tua opinione non tanto sul pallone d'oro ma se secondo te questo è calcio attendibile o no? è un calcio strano penso che era palese aspettarsi un calcio strano se nei 120 anni precedenti a luglio il campionato non è mai stato giocato vuol dire che non ci sono le condizioni per giocare un campionato a luglio in Italia quindi in questo momento siamo costretti a giocarlo e lo giochiamo volentieri però no non è che è una situazione ideale i giocatori sono al entrano siamo entrati da 10 giorni nel 13esimo mese d'attività perché se volete far passare un lockdown come un momento di relax mi sembra che ci sia una certa distanza mentalmente tra un riposo e un essere chiuso in casa con il rumore d'ambulanza 1900-1200 morti al giorno non penso che la mente si sia riposata anche il periodo e quindi è tutto fortemente atipico infatti è un momento della stagione in cui fare punti è difficilissimo e le partite sono partite che hanno una logia molto diversa rispetto a prima si vede partite completamente in mano a una squadra poi improvvisamente risultati rivoltati nel giro di pochi minuti e non succede solo in Serie A perché ho visto giorni fa ho visto delle partite di Serie B e nel giro di 20 minuti tre squadre di Asa stavano vincendo 2-0 hanno perso la tra due quindi vuol dire che ci sono veramente le condizioni fisiche e mentali perché questo possa succedere allora facciamo della valle chiudiamo con Capaldi buonasera io volevo sapere se con l'ingresso in campo di Danilo e Matudi pensa anche lei che la squadra abbia arretrato il baricentro ma non lo so penso che 2-2-0 era anche inevitabile abbassare un po' il baricentro l'importante era rimanere attivi nella fase difensiva non passivi come siamo stati in altre situazioni quando ci siamo abbassati però te l'ho detto prima erano due cambi secondo me dovuti perché erano due giocatori e potevano rischiare qualcosa a livello di incolumità fisica così ne siamo usciti con due giocatori e molto probabilmente giovedì possono anche giocare perché hanno fatto solamente 55 minuti in campo l'ultimo Aurelio Capaldi Rai Sport volevo conoscere la sua opinione sulle dichiarazioni di Conte ha detto nel dubbio lo schiaffolo prende l'Inter calendario folle sembra fatto per mettere in difficoltà l'Inter che idea si è fatto? non ho letto le dichiarazioni di Conte non le ho sentite e non mi sono fatto un'idea perché sinceramente non ci ho pensato assolutamente grazie buona serata